A inventare i numeri di Gianni Rodari. Inventiamo dei numeri? Inventiamoli. Comincio io. Quasi uno, quasi due, quasi tre, quasi quattro, quasi cinque, quasi sei e troppo poco. Senti questi. Uno stramilione di biliardoni, un ottone di millantoni, un meravigliardo e un meraviglione. Io allora inventerò una tabellina. Tre per uno trentebelluno, tre per due bistecca di bue, tre per tre latte caffè, tre per quattro cioccolato, tre per cinque male lingue, tre per sei patrizia e plebei, tre per sette torta a fette, tre per otto piselli e risotto, tre per nove scarpe nuove, tre per dieci pasta e ceci. Quanto costa questa pasta? Due tirate d'orecchi. E quanto c'è da qui a Milano? Mille chilometri nuovi, un chilometro usato e sette cioccolatini. E quanto pesa una lacrima? Secondo. La lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento. Quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra. Quanto è lunga questa favola? Troppo. Allora inventiamo in fretta altri numeri per finire. Li dico io. Alla maniera di Modena. Unci, dunci, trinci, quara, quarinci, miri, miminci, un, fan, des. Io li dico alla maniera di Roma. Unzi, donzi, trenzi, quale, qualinzi, mele, melinzi, rif, raff, dieci. Un, di loro, che, dim Mini Forward. Un, di loro, che, dim anni. Lo mirola. Uor groundbreaking di Chan ... Un, di loro, che, dimostrare a casa, A Gesù il, che, dimostra, vβ, lascia che, dimostra sentire. Un, di loro, che, dimostra, vede, lascia che hier